Accadde oggi! Quorum raggiunto, maggioranza schiacciante. Il 22 ottobre 2017 si tengono i due referendum per l'autonomia. Il primo, quello che coinvolge tutti i Veneti, riguarda l'autogoverno regionale. Il secondo, invece, riguarda solo i bellunesi, chiamati ad esprimersi sull'ipotesi di un'autonomia differenziata a livello provinciale. Il quesito regionale porta al voto il 57,3% degli elettori veneti e il 51,4% dei bellunesi. A esprimersi per i sì al quesito veneto è il 98% dei votanti, nel bellunese mezzo punto percentuale in meno. La chiamata alle urne viene deliberata dalla regione il 24 aprile e la data scelta non è per nulla casuale. Il 22 ottobre, infatti, richiama l'anniversario del plebiscito del 1866 con cui le province venete passano insieme a Mantova al Regno d'Italia. L'operazione costa 14 milioni di euro e si tiene in parallelo con un'iniziativa analoga in Lombardia. Il quesito sulla scheda è semplice. Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La consultazione bellunese nasce per gemmazione. Il 21 luglio a Palazzo Piloni viene indetta alla votazione, da tenersi in parallelo a quella regionale, senza gravi particolari per quanto riguarda l'organizzazione. In questo caso il costo è di 300 mila euro. Il quesito sulla scheda è più lungo e richiama norme ben precise. Vuoi che la specificità della provincia di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell'ambito dell'intese Stato-Regione per una maggiore autonomia del Veneto ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione? Il testo quindi contiene un riferimento al tema della specificità sancita nel 2014 e se combinato con quello del referendum regionale disegna un meccanismo in cui tutte le province sono autonome, ma una, ovvero Belluno, è più autonoma delle altre. Gli elettori rispondono con un'affluenza del 52,3% e un consenso del 98,7%. I due referendum aprono un lungo dibattito e una complicata fase di valutazione, in particolare quello regionale anche perché, come il Veneto, anche Lombardia e Emilia-Romagna chiedono forme di autonomia. Quali materie devono passare dallo Stato alle Regioni? Come si quantificano i fabbisogni economici? Come si può evitare di allargare il divario tra Regioni con un'economia più fiorente e Regioni con un pil pro capite più contenuto? Le domande e soprattutto le risposte rimbalzano più volte tra Venezia e Roma, ministro dopo ministro, esecutivo dopo esecutivo.